Ciao a tutti, in questo video credo di dare una risposta definitiva alle obiezioni di Luigi Pavone riguardo al rapporto di un ente con l'apparire finito e quello infinito. Secondo Luigi Pavone, nelle tesi di Severino vi è la seguente contraddizione, che uno stesso ente x sarebbe simultaneamente il rapporto formale e il rapporto concreto con il tutto e siccome il rapporto formale escluderebbe, secondo Luigi Pavone, quello concreto, i due aspetti sarebbero in contraddizione. Ora, la risposta che ritengo sia definitiva riguardo a questo tipo di obiezione sta nel mostrare che l'apparire finito, essendo una parte dell'apparire infinito, contiene sia il rapporto formale che il rapporto concreto con il tutto, in quanto il rapporto formale sarebbe un aspetto del rapporto concreto con il tutto, anche perché lo stesso rapporto formale con il tutto implica la presenza del tutto, altrimenti la posizione del rapporto formale con il tutto non sarebbe tale. Se in tale posizione non fosse implicito il rapporto concreto anche con il tutto, se il tutto non fosse implicato in quanto concreto nel rapporto formale di una parte con il tutto, non vi sarebbe neanche il rapporto formale di una parte con il tutto. Quindi il tutto è già presente nel suo rapporto concreto anche nel rapporto formale. Il rapporto formale rinvia, comporta già la presenza concreta del tutto, che quindi già in qualche modo è presente concretamente, già solo per questo motivo, anche nel rapporto formale. Il rapporto formale di una parte con il tutto include astrattamente la totalità nella propria posizione, ma quella forma astratta del tutto rimanda al tutto concreto e quindi al rapporto concreto della parte con il tutto. La totalità infinita include anche la sua forma astratta, che è presente come tracce nella posizione, nel campo semantico di ogni parte finita, soprattutto di quelle che appartengono all'apparire finito. Dunque, ricapitolando, la posizione formale, la posizione del rapporto della parte con il tutto, nella sua forma astratta, formale, comporta anche la presenza concreta di quel rapporto e quindi del tutto concreto. L'apparire finito, come è stato detto anche nel video precedente, forse anche in quello ancora prima, l'apparire finito include, cioè l'apparire infinito, include l'apparire finito per come appare nella nostra esperienza. L'apparire finito non ha nulla di meno di ciò che appare in quello finito. L'apparire finito non esiste autonomamente come realtà assoluta al di fuori dell'apparire infinito, ma vi è totalmente immerso. L'apparire finito è una parte, una porzione totalmente inclusa nell'apparire infinito. Per fare un esempio, adesso riprendendo quello che è stato detto anche negli altri video, prendiamo ad esempio una mattonella. Io avevo fatto l'esempio di una porzione di un muro, però adesso facciamo un esempio forse ancora più calzante. Prendiamo un muro fatto da mattoni e poniamo che con una telecamera inquadriamo solo un mattone. Inquadrando solo un mattone non appare tutto il muro e quindi quel mattone non appare in quella visione come concretamente congiunto a tutti gli altri mattoni e quindi il rapporto concreto alla totalità che sarebbe il muro. Ora, in questo esempio l'apparire infinito sarebbe il muro e l'apparire finito sarebbe lo sguardo parziale della telecamera su di un solo mattone. Anche quando la telecamera guarda un solo mattone, quel mattone comunque non è isolato veramente da tutti gli altri. Certo, nel singolo sguardo della telecamera appare solo un significato astratto del rapporto che quel mattone avrebbe con tutti gli altri e quindi non appare concretamente il muro. Appare la forma astratta di quel rapporto perché comunque un mattone, se poi appare anche qualche altro mattone, già rinvia a un insieme di mattoni. Ma quel mattone al di fuori dello sguardo della telecamera è comunque di per sé congiunto a tutti gli altri. Non è quindi il rapporto concreto quando non è osservato dalla telecamera e poi si trova improvvisamente in un rapporto astratto con la totalità dentro la prospettiva della telecamera. La prospettiva della telecamera non è assoluta, è una prospettiva. Il fatto che quella prospettiva includa quel significato non esclude un significato ulteriore che trascenda quel significato relativo. Cioè, il fatto di essere una porzione di un muro da parte del mattone non esclude la possibilità che sia anche in un rapporto concreto, anzi, necessita di essere in un rapporto anche concreto con tutto il resto del muro per poter avere anche la forma astratta di quel rapporto. L'apparire infinito è come se fosse, oltre che tutto il muro, anche tutte le telecamere finite che vedono da varie angolazioni il muro, più una che vede tutto quello che vedono tutte le telecamere. E quindi ha una prospettiva completa che include in sé tutte le prospettive finite. Ecco come si risolve il problema. Facendo notare che l'apparire finito è una parte dell'apparire infinito. E quindi anche le prospettive finite sono una parte della prospettiva infinita dell'apparire infinito. E quindi è come se l'apparire infinito anche dal punto di vista delle prospettive coscienziali fosse una struttura gerarchica, potremmo dire, dove le prospettive finite sono subordinate e immerse, incluse in una più ampia prospettiva che è quella dell'apparire infinito. Quindi una una prospettiva unica ma che include una molteplicità infinita di sottoprospettive. Il rapporto formale della parte con il tutto è all'interno delle prospettive finite che fanno parte a loro volta della prospettiva unica dell'apparire infinito che contiene concretamente la congiunzione e il rapporto concreto con tutte le sue parti. E quindi tutte le parti tra virgolette al di fuori dell'apparire finito oltre all'apparire finito sono concretamente collegate al tutto. Che altro aggiungere quindi? L'apparire finito non è qualcosa di chiuso e isolato qualcosa di astratto rispetto al tutto in cui risiede. Va considerato in questo modo. Pensare altrimenti all'apparire finito e al rapporto formale e concreto con il tutto significa pensare astrattamente a questi elementi. Bene, allora vorrei vedere se c'è qualcos'altro ricapitolando che va detto perché vorrei provare a dare una risposta definitiva a tutto questo dibattito e quindi ricapitolando facendo una brevissima ricapitolazione mia mentale mi sembra di aver detto tutto mi sembra che ormai l'obiezione sia risolta mostrando che l'apparire il rapporto formale della parte con il tutto non esclude il rapporto concreto con il tutto perché la parte inserita in un certo modo nel tutto si risolve il problema il problema sorge pensando astrattamente all'apparire finito e all'apparire infinito assolutizzando entrambi pensando che siano due realtà e prospettive assolute e autonome da lì nasce il problema perché in quel modo si assolutizza il rapporto formale della parte con il tutto e lo si astrae dal suo contesto concreto che appartiene totalmente alla struttura delle prospettive di cui ho parlato prima inclusa nell'apparire infinito e quindi assolutizzando e astraendo il rapporto formale della parte con il tutto è chiaro che sembra escludere poi il rapporto concreto ma se appunto mi si perdoni l'essere prolisso ma è importante chiarire bene se il rapporto concreto della parte con il tutto è composta è composto da strati in cui è incluso anche il rapporto formale della parte con il tutto il rapporto formale della parte con il tutto non è in contraddizione con il rapporto concreto purché appunto si riconosca che in realtà ogni parte è sempre veramente il rapporto concreto con il tutto anche quando non appare per quello si è detto più volte di non assolutizzare che è un errore assolutizzare l'apparire finito e quindi presuppore che il non apparire concreto del tutto il rapporto alla parte significhi che nell'apparire finito è assente realmente il rapporto concreto della parte con il tutto no non solo il fatto che non appaia nell'apparire finito questo rapporto concreto non comporta che non ci sia non solo l'apparire il rapporto formale già rinvia al rapporto concreto per i motivi spiegati prima non solo l'apparire finito fa parte dell'apparire infinito e va trattato come tale ma per giunta proprio perché tutto questo discorso segue sempre dal fondamento della struttura originaria dove si mostra che un ente determinato qualsiasi è identico se è distinto dalla totalità infinita allora da ciò segue che nel campo posizionale di ogni ente del suo significato della sua identità è presente a maggior ragione il suo distinguersi da tutto il resto e quindi tutto il resto anche se nella sua forma stratta è già incluso nel campo posizionale in questione e come detto prima il campo posizionale in questione riguarda anche il tutto concreto perché il rapporto formale del tutto riguarda complemento oggetto il tutto la parte è il rapporto formale con che cosa con il tutto e quindi il tutto è presente anche concretamente in quella posizione perché la sua forma stratta rimanda al tutto altrimenti se così non fosse la forma astratta del tutto e quindi la forma il rapporto formale della parte con il tutto non sarebbe tale ma sarebbe il rapporto formale del tutto formale della parte con il tutto formale e non con il tutto e quindi il tutto formale a sua volta non sarebbe tutto formale ma sarebbe la posizione astratta della posizione astratta del tutto e questo creerebbe un regresso all'infinito dove non si riuscirebbe mai a porre neanche il rapporto formale della parte con il tutto siccome nell'obiezione di Luigi Pavone si parlava di quei significati assumendoli come determinati bisogna tener conto anche di questo se non si accettano le necessità della struttura originaria da cui seguono anche quelle spiegate in questo video non si può neanche porre quel tipo di significati in modo valido non hanno più il significato corretto che è determinato che hanno quei termini quei concetti parte tutto rapporto formale rapporto concreto siccome come già detto è per per porre qualcosa lo si deve porre come determinato e per porlo così bisogna porlo conformemente all'opposizione positivo negativo e non c'è altro modo ogni parte per essere parte deve essere determinata e distinta da tutte le altre questo comporta tutto ciò che ho detto prima quindi considerando tutto questo considerando che appunto mi sembra di aver detto tutto comunque considerando bene tenendo in mente che il rapporto formale della parte con il tutto è un un aspetto parziale del rapporto concreto della parte con il tutto si risolve ogni problema è un problema